Allora, rimasta uno che in realtà manca, ragazzi, da qualcuno che facciamo parlare dopo e dovrebbe parlare anche Neroni che per i primi tre mesi c'è la nostra scatola e lo facciamo parlare dopo da solo però ora forse l'unico tra tutti questi che ha veramente un po' per servire 4 anni, 4 campionati, il capitato Allora, ragazzi, non lo sapevo C'è stato il regno Apparti tutto, apparti ringraziamoci al presidente, allo staff, a tutti quanti vorrei dire una cosa, ragazzi, che fino a un certo punto è stata dura quindi dall'infezione ci manca poco è stata dura, siamo stati troppo forti, ragazzi Grazie